Massimo Epifani, San Nicolò al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie D, una stagione importante, tante abruzzesi, tante squadre che partono con i favori del pronostico. Il San Nicolò, a proposito di pronostici, cosa cercherà di fare la prossima stagione? Il San Nicolò cercherà di fare, non bene, benissimo, perché abbiamo allistito, secondo me, una squadra importante, una squadra con giocatori forti. e cercheremo di fare quello che abbiamo fatto gli altri anni, sicuramente con appuntare un po' più in alto di quello che abbiamo fatto specialmente nell'ultimo anno. Quello prossimo sarà un campionato duro, probabilmente più difficile di quello della passata stagione, diverse corazzate cercheranno di accaparrarsi questo primo posto? È un campionato difficile, ma questo è il terzo anno che lo facciamo e credo che un pochettino di esperienza ormai ce l'abbiamo. È un campionato vero e proprio professionistico, anche se dilettantistico, e quindi ci prepariamo a un'annata difficile, sicuramente ci faremo trovare pronti. Stiamo lavorando, cercando di trovare il prima possibile la strada giusta, perché cambiando tantissimo bisogna lavorare e farsi trovare il 4 settembre pronti. Avete però lavorato bene sul mercato, manca ancora qualcosa probabilmente? Forse un fuori quota, però abbiamo fatto un grande lavoro, con il direttore Mitchell è stato sempre attento su tutto. Abbiamo fatto la squadra che volevamo, abbiamo preso i giocatori che volevamo, quindi siamo pronti per questo anno, adesso bisogna solo lavorare e farsi trovare pronte, perché sarà un campionato terribile dove ci sono squadre come l'Aquila, come Fermana, come Materi che hanno fatto squadre per vincere il campionato. Io ho sempre detto che per quanto riguarda la Serie D ho dato sempre la priorità al San Nicolò, perché è una società dove mi trovo bene e dove si lavora molto bene. Ho avuto possibilità di andare in Lega Pro e alla fine sono saltate per piccole cose, però sicuramente non sono rimasto come ripiego, ma perché voglio fare bene e voglio cercare di arrivare il più in alto possibile. Grazie. Grazie. Grazie.